Ho sognato che stavi a ginocchia, come un santo che prega il Signor, mi guardavi nel fuoco di Al Maco Museum di Sant'Erasmo a Veroli è stata inaugurata la sezione Fashion Design, ospite della serata alla soprano Orietta Manente. Oggi al Maco Museum abbiamo inaugurato la sezione Fashion Design che intende in pratica portare avanti il Maco Museum anche in questo settore specifico. Il nostro interesse è divulgare il Made in Italy anche nei confronti delle persone che sono andate via dall'Italia molto tempo fa per trovare fortuna magari in altri luoghi nel mondo e che magari in questo contesto estivo tornano in Italia per visitare i luoghi e anche per apprezzare il Made in Italy. Il Maco Museum di Sant'Erasmo a Veroli continua a conservare produzioni artistiche dell'arte visiva contemporanea proveniente da tutto il mondo. Qui abbiamo rappresentate tutte le produzioni artistiche mondiali dei cosiddetti sei continenti politico-culturali. Abbiamo produzioni artistiche dall'Australia, dal Messico, dalla Spagna, dall'America Latina, dall'America del Nord, dall'Africa e anche dalla Svezia. Quindi abbiamo un concentrato di produzioni artistiche che metta al centro Veroli e il Maco Museum e il Sant'Erasmo in una situazione tale da avere consensi unanimi per quanto riguarda la cultura e l'arte. Il Maco Museum di Sant'Erasmo a Veroli sarà protagonista di un progetto espositivo molto importante in programma sull'isola di Capri. Quindi un progetto artisonante, un progetto ambizioso che verrà coinvolte le arti figurative ma anche le arti applicate, quindi il fashion design, una sorta di connubio artistico che vuole risaltare la produzione contemporanea.